Ben ritrovati con una nuova sfida! Oggi facciamo la sfida delle macchinine! E questa macchinina sembra un serpente l'avete vista? Bellissima! Guardate che belli! Uno apre pure la bocca quando cammina! Vedete? Guardate i dentini! Che c'ho? Fanno ridere! Ma che cos'è questo? Non è un poliziotto quello! Ma che cos'è? Un camion dei pompieri? Sì, ecco! Non mi ricordavo! Guarda! Ti aggancio con lui! Vai! Seguitemi! Pronto, pronto amici! Venite! Vedo un robot che sta facendo Yeah, yeah! Uh, sta ballando! Tu, tu, tu! Down, down! Down, din, din, down! Aiuto! Attacco il... Aereo! Stanno arrivando gli amici! I cici bellissimi! No, si sta distruggendo! Non calpestate il lupo poverino! No, ma lo state facendo! No! Loro devono stare insieme e loro insieme Allora, i rossi con i rossi I blu con i blu I azzuri con gli azzuri Il giallo con il giallo Il verde con il verde Ecco, il blu Il grigio Giallo Giallo Giallo, 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 giallo Quanti giallo c'ho? Dopo un giallo qua Il blu qua Il blu qua Il giallo Dopo il blu Ci sono tantissime cose verdi Almeno un po' di cose bianche ci sono Non soltanto due Rosso, rosso Rosso, rosso Rosso, rosso Rosso, rosso Rosso, rosso Rosso, rosso, rosso Verde Finito! Adesso vi dico i colori Allora Allora, blu Grigio Bianco Arancione Giallo Rosso 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 Rosso